buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di un ciclo che affronterà le questioni che riguardano le coperture il ciclo è organizzato con un'azienda notissima del settore che è bmi e vede oggi affrontare il tema dei cool roof il cool roof come sapete sono delle coperture che garantiscono una serie di vantaggi per quanto riguarda la climatizzazione interna nel senso che aiutano a evitare il suo riscaldamento delle superfici di copertura e quindi a migliorare anche quelle che sono le prestazioni all'interno e anche dei pacchetti sottostanti il tema di oggi verrà trattato da daniele piccardi che vedete già collegato e che sarà relatore anche nel prossimo appuntamento sempre mercoledì a quest'ora e anche nei prossimi mercoledì poi si alterneranno anche altri relatori per affrontare i diversi aspetti delle coperture dicevo piccardi sarà con noi anche mercoledì prossimo ricordo a tutti i partecipanti che potete porre delle domande attraverso il pannello domande che trovate alla vostra destra nel nel pannello di go to webinar io raccoglierò gli vostri inquisiti e li parlo man mano a piccardi in maniera da risolvere eventuali dubbi approfondire di questioni e quant'altro possa essere utile a tutti in maniera che quella che è il webinar di oggi diventi un approfondimento delle questioni successivamente via mail riceverete anche un link dal quale scaricare le slide per approfondire o a rivedere le questioni trattate oggi bene daniele direi che a questo punto la palla passa a te per presentare un po le soluzioni di oggi ma anche dirci dirci anche qualcosa in più su bmi e le soluzioni che ha messo a punto per risolvere le problematiche legate al curruzzo prego benissimo benissimo grazie di nando allora partiamo con questa discussione intorno al currups buongiorno a tutti ea tutte le persone che stanno sentendo sono daniele piccardi project manager presso bmi italia e mi occupo di impermeabilizzazioni dal 2010 5 dunque il tema di oggi il tema di oggi riguarda una particolare tipologia di coperture queste coperture sono dette currups dunque se traduciamo letteralmente possiamo dire tetti freddi che non è sbagliato noi in realtà parliamo di coperture riflettenti altamente riflettenti questo è un modo un pochino più abituale di intendere queste coperture questa presentazione appunto lo diceva già ferdinando sarà disponibile sul sito edicom e poi insomma sarà di nuovo disponibile perché la riceverete attraverso un link nei prossimi giorni via mail dunque il gruppo bmi bmi è un gruppo giovane nasce dalla fusione di due gruppi industriali bras monier che è specialista delle coperture a falda e i copal che è specialista nelle impermeabilizzazioni quindi nelle coperture piane ma non solo il gruppo è giovane come vi dicevo ma l'esperienza delle sue due anime è molto lunga in italia il gruppo e sotto diciamo il nome monier c'è un marchio importante importantissimo del settore che è virer che è presente da 60 anni come assoluto protagonista lunga esperienza però anche per i copal in europa e anche in italia con alcuni marchi famosi come siplast che è stato in francia ma che ha avuto in italia negli anni 80 una produzione con siplast italiana vedag germania e una presenza comunque di copal anche in italia e come si vede da questa immagine il gruppo bmi è concentrato sul cosiddetto roofing cioè sulle soluzioni per le coperture coperture di ogni tipo piane o inclinate che siano in ambito residenziale o non residenziale diciamo questa è il suo è il suo grande e il suo focus allora lo spirito è lo spirito pioneristico quindi diciamo velocemente perché perché l'approccio che abbiamo in bmi è quello di pensare al roofing non solo come qualcosa che si riduce al tema del tetto come siamo elemento che divide ciò che sta fuori da ciò che sta dentro un edificio e lo protegge ma pensiamo a tutto quello che può fare che può dare in più questo elemento due numeri insomma brevemente vedete che il gruppo bmi è comunque uno degli assoluti protagonisti del mercato europeo con 213 milioni di metri quadri realizzati con i materiali bmi nel 2018 questi dati si riferiscono al 2018 circa un fattore di 2 miliardi di euro 9.600 dipendenti una presenza industriale importante con circa 130 stabilimenti e attività nel mondo diciamo al 40 paesi maniera importante chiaramente è concentrata in europa ma anche in sudafrica in asia e detto questo il gruppo bmi è comunque parte di una famiglia più grande che è la famiglia che ha sede negli stati uniti di standard industries di cui fa parte anche il gruppo jf come detto quindi le soluzioni di bmi riguardano le coperture a falda le coperture piane delle soluzioni per per le coperture che non si limitano quindi solo alla copertura in sé ma riguardano ad esempio il fotovoltaico riguardano riguardano aspetti diciamo più accessori ma altrettanto importanti delle coperture e non solo perché riguardano anche il così non solo il roofing ma anche il cosiddetto waterproofing cioè le infrastrutture i ponti il genio civile le opere idrauliche e le opere ambientali quindi c'è una presenza in molti settori chiedo scusa alcuni marchi alcuni marchi ben conosciuti i marchi di bma italia con dire tegola in cemento no presente da più di 60 anni brass tegola e coppia in latrizio questi due marchi sono molto molto consolidati in italia e dei nuovi marchi come everguard che è il marchio bmi per le membrane di impermeabilizzazione sintetiche principalmente in tpo scusate non bituminose e i copal principalmente presente con i prodotti con membrane bituminose funcione al russo una una parola la rappresentazione scappa un po via una parola con la quale si intende semplicemente tetti funzionali cioè questo per dire cosa per dire appunto che oltre all'aspetto di impermeabilizzazione noi possiamo considerare altre funzioni altre funzioni delle coperture e tra queste possiamo considerare ad esempio i curups di cui parliamo oggi ma non solo ci sono i green russ cioè i tetti verdi le copertura verde pensile molto diffusi anche in italia ma ci sono anche altri tipi di tetti parliamo in via mai di blue russ o di sport russ ad esempio per altre e questi sono sono alcuni esempi allora coperture coperture i crew sono delle coperture tecniche quindi delle coperture altamente riflettenti alla quale possiamo associare anche impianti fotovoltaici quindi sono coperture particolari che dal punto di vista energetico sono in grado di dare un apporto importante agli edifici le coperture verde pensile come vedete da questa immagine anche qui abbiamo abbiamo la possibilità di immaginare lo spazio della copertura in maniera architettonica in modo diverso ma c'è anche un beneficio non solo di vivibilità ma c'è un beneficio termico perché c'è il raffrescamento che dà il verde pensile c'è c'è un beneficio alla allo stesso ambiente perché la traspirabilità delle piante aiuta l'abbassamento delle temperature in generale nei mesi più caldi blue roofs l'ho accennato brevemente prima i blue roofs sono delle coperture diciamo che aggiungono una funzione in più cioè funzionano come un polmone in grado di trattenere l'acqua in caso di eventi meteo eccezionali queste queste coperture di fatto la trattengono e poi la restituiscono con un flusso regolare alla rete idrica alleviandola quindi durante i momenti in cui appunto per le cause meteo riceviamo una quantità d'acqua in poco tempo molto grande quindi daniele potremmo dire che sono hanno più o meno che funzionano come se vogliamo fare un parallelo come ad esempio i bacini di laminazione se le reti idrica in sostanza diciamoli l'idea un po quella l'idea di avere dei polmoni dei piccoli polmoni più o meno piccoli o grandi che che hanno proprio quella funzione lì quindi trattenere brevemente per un tempo limitato l'acqua e dare sollievo alla rete idrica che altrimenti appunto porta ad allagamenti importanti non nelle aree metropolitane benissimo come dicevo prima poi abbiamo anche la possibilità di immaginare impianti sportivi sopra le coperture sport rus questo accade accade nelle aree metropolitane ad esempio più più densamente abitate dove sopra le scuole sopra i tetti delle scuole ad un certo punto perché no si può pensare di utilizzare quelle superfici per per avere una per viverle in maniera in maniera utile qualcuno ci chiede una precisazione sui blue roof che abbiamo fatto vedere prima chiedendoci esattamente come funziona in sostanza una copertura impermeabilizzata che immagino raccolga l'acqua piovana e se se come vedete qui mi posso soffermare brevemente poi potrebbe essere motivo di altri approfondimenti diciamo che l'idea è quella di avere una copertura una copertura isolata o anche non isolata va bene impermeabilizzata ma che poi abbia un polmone questo polmone viene creato praticamente da pannelli con una struttura al violare che possono raggiungere spessori anche molto grandi uno può dimensionare la copertura e il carico poi di acqua sopra di questa e può alzare questa questo spessore dei pannelli a un metro metro e mezzo o anche di più e di fatto questi pannelli ad alta resistenza diventano il polmone sopra i pannelli c'è l'elemento di finitura della copertura che può essere un verde pensile può essere della ghiaia può essere un parcheggio con dei punti in cui l'acqua può infiltrarsi viene convogliata e quindi il polmone è dato da questa da questo da questa ampia zona da questo ampio volume che ha la struttura come di un alveare questi pannelli sono pannelli plastici materiali sono pannelli materiali partici non si vede qua si vede in questa fotografia che ho messo si vede la parte finale in cui si cominciano a posare no si si vede la parte di posa un geodrenante il rotolo il rotolo bianco che stanno sotturando che sta al di sotto dei pannelli questi blu che cominciano a essere posati sopra quei pannelli sono una parte della dell'alveare poi sopra ce ne saranno altri fino a diciamo alla quota di progetto immaginate che queste coperture possono essere realizzate sì sul tetto di un edificio ma possono anche essere realizzate nelle zone antistanti ad esempio il parcheggio di un centro commerciale dove sotto dove sotto c'è una zona di parcheggio di garage quindi che l'area può essere sfruttata in questo modo ovviamente che la struttura della copertura sia adeguata ovviamente a sopportare il carico dovuto andare all'acqua eccetera certo 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 tutto questo viene 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 calcolato in fase di progetto ad esempio un'altra area che si può sfruttare è all'interno di un condominio nelle zone di verde che ci sono quindi quelle zone di verde che magari si allagano caso di grande pioggia ecco possono in questi si possono inserire questi questi elementi quindi si diventa un mix non blu green roofs con queste parole poi noi giochiamo anche un po usate nella mia abbiamo visto una serie di funzioni tecniche che possono avere le coperture e vediamo torniamo al tema che invece quello di oggi proprio invece del culo sì allora ancora brevemente sul fatto che il modo in cui evolvono le scelte le scelte di progettazione anche il modo in cui ci si spinge verso questi functional roofs no è spinto moltissimo è spinto da molte cose ma molto dipende dalle normative dai regolamenti europee e nazionali qui avete un esempio di regolamenti che ad esempio ha istituito la città di berlino in cui chiede che ci sia un'attenzione alla sostenibilità quindi agli aspetti ecologici nelle tecniche di costruzione ma che ci sia anche la capacità di promuovere soluzioni di vivibilità maggiore e questo questo è un trend che quindi i regolamenti spingono in questa direzione ci sono poi chiaramente altri componenti perché dipende dalla capacità di risposta del ciclo industriale però dipende anche dalla spinta che viene proprio dai dai cittadini da tutti noi quindi dalle nostre richieste da come vogliamo che appunto cambi o che sia la vivibilità delle delle nostre aree urbane i must comunque sono sicuramente e sempre di più una maggiore durabilità dei materiali questo è chiesto tantissimo e sempre di più dall'industria dai regolamenti dalle norme e insomma da tutto da tutto il ciclo e l'altro must è l'efficienza energetica sempre di più sempre una maggiore efficienza energetica di tutte le soluzioni fino ad immaginare appunto quegli edifici che possono avere un bilancio energetico quasi vicino allo zero cioè che consumano tanta energia quanta ne producono e questo deve fare conti con il nostro clima che sta cambiando in questa slide l'ho inserito brevemente voi avete un esempio della città di manheim uno studio in cui si vede un incremento significativo previsto nella seconda parte di questo di questo secolo dell'84 per cento cioè i giorni i giorni le giornate molto calde quelle al di sopra di 30 gradi in una città che si trova in centro europa manheim passano da 3,8 giorni che sono quelli la media che si è calcolata dal 1971 al 2000 si prevede che passeranno a 12 a 12 a più di 12 giorni nei prossimi anni da qui fino agli anni cinque al cinquante di questo secolo per poi passare a più di 30 giorni quindi giornate molto calde in centro europa e questo influisce sui materiali nonché sui fenomeni climatici associati no velocemente vedete questa fotografia non mi soffermo molto ma è solo per dire che questa è una fotografia attuale con delle zone climatiche e a questa fotografia per l'ambito dell'edilizia è importante pensare proprio per come si comportano i materiali ma questa fotografia di oggi non la si può pensare come una fotografia statica cambia e sta cambiando sempre più velocemente quindi quello che ad esempio è il clima mediterraneo la zona in viola che ci interessa principalmente e sta sta cambiando anche gli scienziati gli esperti lo dicono ci sono fenomeni che si spostano verso una aspetti più tropicali quindi fenomeni più brevi intensi e delle solicitazioni quindi più forte più forti e mamma molto no come 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 solicitazioni molto forti alle alle elementi di una copertura o comunque ad un edificio al nostri agli elementi urbani bene dopo questa parte diciamo iniziale un po introduttiva sulle tipologie di copertura e anche sui functional roof e sulle risposte che devono dare sia dal punto di vista climatico e dal punto di vista della durabilità io mi sposto un po sull'argomento principale su una di queste coperture funzionali quindi il cool roof che sono anche detti albedo russ si sente anche questo termine e entrando un po nel vivo del tema va bene allora cosa sono si tratta di coperture tecniche di fatto che hanno un'alta capacità di riflessione dell'energia termica trasmessa per il raggiamento in breve questo sono i cool roof a cosa servono allora principalmente contribuiscono a contenere il suo riscaldamento dell'edificio soprattutto nei periodi caldi principalmente nei periodi caldi perché appunto riflettono sono gran parte dell'energia che è trasmessa e quindi è chiaro capire come contribuiscono a un generale risparmio in termini di energia quell'energia che noi utilizziamo per l'area condizionata quindi il riaffrescamento degli ambienti interni dell'edificio ma non solo hanno anche altre effetti positivi permettono ad esempio la riduzione dell'effetto dell'isola di calore che è un effetto che si crea attorno alle aree metropolitane sempre nei mesi più caldi diciamo in cosa consiste questo effetto è abbastanza intuitivo e ci spiega così che le superfici e gli stessi materiali che noi abbiamo nelle aree metropolitane sono prevalentemente assorbenti dal punto di vista termico perché noi abbiamo cemento abbiamo asfalto in grande quantità e quindi questi materiali hanno un assorbimento molto alto di questa energia termica che è trasmessa dal sole questo calore si accumula addirittura nelle aree metropolitane con edifici alti e molto stretti un po come si vede nella foto si creano degli effetti canyon quindi dei flussi di calore e il calore fa fatica a dissiparsi e rimane intrappolato si può arrivare ad una differenza di temperatura anche di 4-5 gradi nel raggio di pochi chilometri tra l'area urbana e le aree diciamo circostanti non metropolitane e questo non va bene questo non va bene perché i materiali ne soffrono perché l'energia che dobbiamo utilizzare per il raffrescamento è un'energia che aumenta invece che tenerla sotto controllo quindi ha una serie di effetti diciamo che vanno nella direzione sbagliata qua si vede velocemente insomma un po' il ciclo il sole la radiazione solare crea un irraggiamento importante però poi sono le attività umane principalmente quelle che diciamo determinano l'effetto di isola di calore perché tutte le attività umane e i materiali quindi le attività e i materiali trattengono molto calore diciamo che ciò che contribuisce ad abbattere l'effetto isola di calore sono le aree verdi le aree verdi assolutamente perché attraverso il processo di traspirazione come si vede di evaporazione rilasciano umidità quindi trattengono loro l'energia e la trasformano quindi non la riflettono e basta e i currus anche i currus hanno questa capacità oppure le superfici però ce ne sono di meno le superfici come i laghi, laghetti o superfici di questo tipo ma che in una città chiaramente sono poco presenti tutto il resto invece contribuisce ad aumentare la temperatura quindi all'isola di calore vi faccio vedere anche questa slide, questo studio questo studio che è uno studio diciamo in cui ci si proietta nel futuro, 2071-2100 vedete in viola come sottofondo nei colori in viola voi avete le zone in cui il numero combinato di notti tropicali quindi c'è un calcolo con il numero di notti tropicali cioè notti in cui la temperatura supera i 20 gradi combinato con i giorni, le giornate molto calde più di 35 gradi è arriva a 50 che è un numero molto alto quindi questa è una proiezione là nel futuro e vedete come la fascia del sud Europa, l'area mediterranea è assolutamente in linea con queste evoluzioni quindi notti sempre più calde e giornate sempre più calde nella slide vedete i cerchiolini rappresentano i colori dei cerchiolini rappresentano in rosso le città che hanno un rapporto tra superficie che non assorbe calore e superficie che l'assorbe minore del 20% quindi in rosso avete città che hanno molte poche superfici verdi o riflettenti o che possono attraverso i processi di traspirazione o di scambi come i superfici blu possono attenuare l'effetto di isolo di calore quindi sono le città dove l'effetto di isolo di calore sarà più forte è già forte e sarà più forte mentre la dimensione come vedete poi dall'altro cerchio è legato alla dimensione della popolazione se guardiamo all'Italia vediamo come questo fenomeno è fortemente presente e ci sono molte aree viola e ci sono molte città che hanno un pallino rosso ma anche città che hanno un pallino arancione che di nuovo è un rapporto che continua ad essere sfavorevole tra le aree che non assorbono calore e le aree che assorbono calore nella città quindi questo fenomeno ci interessa qualche esempio per dire come in generale questo è stato affrontato vedete come questo è un passaggio tipico in Grecia lo conosciamo tutti, è bellissimo e quindi l'idea di utilizzare materiali e colori quindi materiali e il bianco che possa permettere di riflettere buona parte di questo calore ma anche di trattenerne poco è conosciuta e praticata già da molto tempo chiaramente questo è un percorso culturale architettonico e paeseaggistico che arriva da lontano per cui qua in centro Europa o in nord Europa non possiamo immaginare immediatamente di pensare come se fossimo in Grecia abbiamo molte combinazioni da tenere presente però l'applicazione dei currups è possibile ad esempio nelle aree industriali ma anche delle coperture a verde pensile che tra l'altro in centro Europa sono molto molto diffusi se si pensa alla Germania ma non solo le coperture a verde pensile sopra quindi tetti di tipo sia residenziale che non residenziale sono molto diffusi e si integrano meglio quindi con le scelte paesaggistiche ancora cosa servono? per quanto riguarda gli elementi della copertura i currups, quindi le coperture altamente riflettenti permettono di diminuire lo stress lo stress fisico e termico dei materiali che compongono la copertura e questo ne aumenta la durabilità questa slide, Daniele, con questi concetti che hai appena espresso dando forse anche una parziale risposta a qualcuno che ci chiede sulla base di quello che hai mostrato prima come ad esempio il ragionamento in cui il cool roof mi aiuta nelle superfici bianche ad esempio nelle architetture mediterranee tipiche che hai mostrato in Grecia ma anche a volte nel sud Italia in Spagna che è una soluzione praticata moltissimo qualcuno ci fa notare però questa riflettenza cioè questa mancanza di assorbimento del calore forse potrebbe essere utile in inverno invece per il riscaldamento come affrontiamo questo aspetto però forse va ragionato che l'inverno dobbiamo pensare più a un isolamento più che a un assorbimento diciamo del calore che è relativamente poco mentre l'estate abbiamo delle necessità maggiori invece per quanto riguarda il pericolo di suo riscaldamento e quindi farci fronte Sì, diciamo che la soluzione delle coperture riflettenti del cool roof è assolutamente ed è provato un beneficio un vantaggio nei periodi caldi nei periodi invernali diciamo non è uno svantaggio da e nel caso di momenti di clima o di giornate comunque calde di nuovo funziona in quel senso quindi sì, è corretto anche quello che dicevi in inverno noi abbiamo comunque più il problema di trattenere il calore all'interno dell'edificio e di non perderlo non tanto il problema di non fare entrare calore dall'esterno diciamo normalmente all'esterno abbiamo temperature minore inoltre il fatto di proteggere anche la struttura sottostante diciamo queste membrane che ci aiutano a riflettere fa sì che lo stress immateriale e colibenti ma anche della struttura fisica garantisca una maggior durata di questi nel tempo Sì, 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 ecco questo è quello che volevo farvi vedere qua si vede un esempio di pacchetto di copertura e qua riuscite a capire come il calore trasmesso agli elementi superficiali poi viene trasmesso agli elementi sottostanti e questo cosa significa? cosa significa però più nel dettaglio? significa che che ci sono il calore provoca dilatazioni i materiali si dilatano poi si abbassa la temperatura i materiali si contraggono se gli sbalzi sono repentini questi cicli sono veloci e i materiali soffrono ma anche il picchi di calore aumentano i processi che causano invecchiamento di materiali soprattutto quelli che appunto sono materiali plastici e noi abbiamo tantissimi di questi materiali comunque in copertura e aumentano anche i processi di termossidazione quindi tutto questo questo significa che la scienza dei materiali si deve assolutamente spostare e si sta spostando verso materiali che rispondono meglio capaci di durare a lungo anche con sollecitazioni climatiche che diventano sempre più forti non è solo l'intensità che aumenta ma aumenta la durata l'abbiamo visto prima e aumentano anche gli delta cioè gli sbalzi tra non so momenti in cui c'è molto caldo e momenti in cui si raffresca passare in estate da 40-40 gradi 38-42-45 gradi in certe giornate per poi arrivare alla notte in cui la temperatura scende a 20 o un po' sotto ci sono delle differenze in poche ore importanti e di questi materiali soffrono non c'è niente da fare allora procedo sul principio fisico del Currufs perché appunto entriamo un po' nel tecnico di questo aspetto il funzionamento quindi è chiaro abbiamo una superficie sulla copertura che viene colpita dai raggi solari il Curruf ne riflette buona parte una copertura scura invece ne assorbe gran parte quello che succede più nel dettaglio è che noi abbiamo nel comportamento di questi materiali noi abbiamo non solo un fenomeno di riflessione che è subito intuitivo ma anche un fenomeno di emittanza cioè il materiale importante sapere il materiale cosa ne fa dell'energia che ha assorbito perché la riflette ma quella che trattiene cosa fa quanta ne trattiene quanta ne riemette noi abbiamo bisogno per fare un buon tetto Curruf un buon tetto freddo abbiamo bisogno di materiali altamente riflettenti ma basso emissivi perché altrimenti se i materiali sono altamente emissivi poi ricedono l'energia che hanno assorbito agli altri elementi di copertura e riscaldano l'edificio quindi un po' siamo da capo per fare bene diciamo questo lavoro il materiale deve essere altamente riflettente e basso emissivo allora io qua ho inserito un paio di slide ma passo velocemente sul fatto che quindi noi dobbiamo combinare due fenomeni quando cerchiamo di identificare buoni materiali l'emittanza termica che è la capacità appunto di emettere watt su metro quadro quindi un flusso di calore nel tempo e nella superficie e abbiamo bisogno chiedo scusa qua ogni tanto mi scappa di avere materiali altamente riflettenti anche questo lo misuriamo e lo possiamo misurare dobbiamo misurare quindi di un materiale sia la sua riflettività che la sua emittanza dopodiché abbiamo la necessità di combinare queste due performance queste due caratteristiche del materiale e questo si fa attraverso un calcolo il metodo di calcolo è stato stabilito negli Stati Uniti con una norma ASTM la 1980 quindi dell'American Standard Testing and Materials e si chiama Solar Reflectance Index cioè l'indice di riflettanza solare allora a destra vedete una pagina l'ho messa lì per dire che il calcolo che si fa coinvolge costanti fattori temperatura costante di Boltzmann ci sono cose un po' complicate lì però quello che è importante tenere a mente è che noi dobbiamo combinare riflettività ed emittanza termica si parte dalla definizione in questa norma che il corpo nero standard cioè quello che ha SRI uguale a 0 di fatto ha una riflettività dello 0.05 del 5% e un'emittanza del 90% di 0.9 scusate mentre il corpo bianco standard ha un SRI di 100 e ha di base una riflettività dell'80% e un'emittanza anche questo però uguale a prima 0.9 è un po' tecnico però è utile perché l'SRI è un valore di riferimento per valutare i materiali se sono o se non sono materiali Currufs allora guardate questa fotografia in questa fotografia si vede l'effetto Currufs di un materiale se noi guardiamo in basso immediatamente vediamo che la superficie bianca ci aspettiamo che questo materiale abbia le temperature minore quando è riscaldato infatti troviamo 47 e 81 gradi se guardiamo però a sinistra i materiali più scuri intuitivamente ci si potrebbe aspettare che il materiale grigio quello in fondo a sinistra sia il materiale che si comporterà peggio cioè quello che registrerà la temperatura più alta invece no 60,8 gradi per il materiale grigio mentre 63 gradi e mezzo per il materiale bruno che ha cerchiato il rosso perché perché il colore è importante ma è il materiale in sé è la combinazione di come riflette ma anche di come riemette il calore che ha assorbito e quel materiale bruno quindi deve essere un materiale che è poco riflettente come il grigio più o meno saremo lì ma sicuramente deve essere un materiale più più alto emissivo rispetto al grigio e quindi si comporta peggio quindi non è solo il colore che fa di un materiale un materiale Currufs altra cosa importante un accenno breve ma è importante attenzione qua vedete una copertura Currufs una copertura in manto sintetico bianco che è Currufs ora questa copertura di questa copertura noi non dobbiamo considerare solo la performance iniziale il valore di SRI allo stato iniziale ma noi dobbiamo anche chiederci un pochino come si comporterà nel tempo questa copertura e per questo c'è un dato che è fornito e che è il valore di SRI dopo un invecchiamento di almeno tre anni questo fa sempre parte delle norme degli standard AST ATM che sono stati creati negli Stati Uniti perché è negli Stati Uniti che è nata per prima la legislazione la normativa e i metodi per i Currufs che infatti hanno un nome inglese allora un po' di storia su questo ma brevemente negli anni 90 il titolo 24 una legge della California istituisce la legge per cui si chiede alle coperture una riflettanza iniziale minima del 70% del 55% dopo tre anni di invecchiamento secondo i metodi di test ASTM e quindi un SRI iniziale minimo di 64 questo viene chiesto con una legge dello Stato della California questa cosa poi viene ripresa negli Stati Uniti in maniera generale da un ente EPAS Energy Star Roof Products Program che stabilisce uno standard minimo di performance in cui ritocca un po' i valori riflettanza iniziale del 65% riflettanza del 50% dopo invecchiamento di tre anni e poi altri programmi per esempio il più famoso è il LEED ma noi abbiamo anche il BRIM in Europa ce ne sono anche altri ormai ma quello che è cominciato per prima è il Green Building Rating System dove LEED significa Leadership in Energy and Environmental Design stabilisce performance leggermente diverse nel 2009 con la prima versione chiede semplicemente un SRI iniziale di minimo 78 nella sua ultima versione la quarta chiede un SRI iniziale di 82 e un SRI dopo tre anni di 64 per le coperture piane la LEED poi assegna dei punti dicendo va bene questa materiale questa soluzione io la posso considerare Curru questo un pochino per inquadrare la vicenda dei Curru qua vedete la tabella ma brevemente della la tabella LEED con la quale la LEED assegna un punteggio appunto Energy Design e Sustainability e divide poi il tipo di copertura copertura a bassa pendenza copertura a media pendenza e i parcheggi chiede un valore di SRI iniziale per queste e la copertura che qua è 2,12 con il sistema americano è una copertura di circa del 16% in Europa in Europa noi abbiamo lo European Currufs Council che è fondato nel 2011 che promuove l'utilizzo delle soluzioni per i Currufs allora non abbiamo in questo momento ancora un valore di performance a livello europeo armonizzato minimo un po' come hanno fatto insomma negli Stati Uniti e quindi in Europa per noi si utilizza la LEED le performance della LEED come quelle di riferimento oppure se si seguono altri sistemi di valutazione generale può essere BRIM o possono essere altri quindi se dovessimo leggere diciamo dovessimo scegliere dei materiali e capire un po' le loro performance la loro qualità basandoci su l'indice SRI dove a questo punto non abbiamo diciamo dei riferimenti normativi o altro ci basiamo quindi su standard come LEED a questo punto no no però ci sono anche dei riferimenti normativi italiani io qua parlavo che sono stati istituiti con il DPCM dell'efficienza energetica quindi abbiamo lì delle indicazioni però ciò che fa scuola viene dagli Stati Uniti e quindi quei valori che vi ho fatto vedere del LEED sono i valori di riferimento è che in questo momento diciamo lo European Curruf Council che vuole essere un po' come l'Energy Star europeo che promuove l'utilizzo delle soluzioni per i currufs il rating dei materiali quindi cerca un po' di rendere questo a livello armonizzato europeo non ha ancora chiaramente definito un suo degli standard per questo però gli standard ci sono insomma una copertura come la definisce la LEED si comporta dal punto di vista dei currufs molto bene sia negli Stati Uniti che in Europa come in altre parti del mondo benissimo adesso io dalla parte più generale e teorica passo un pochino ad un esempio di sistema Currufs quello PMI vi faccio vedere un video vediamo un po' se riesco ad essere bravo in questo faccio partire questo video che è un lavoro eseguito dai nostri colleghi in Portogallo in cui si vede un sistema completo di copertura si il video si sta caricando adesso cerco di il video è partito Daniele deve riattivare l'audio del microfono stiamo vedendo comunque la posa in sostanza di un currufo eccomi esatto nel senso è quello di una copertura completa questa opera in Portogallo è la prima opera esportata con il sistema di PIR e di Evergar le vantagioni per il client sono un prazo di garantia maio una membrana di qualità alta durabilità una membrana con caratteristiche al lungo del tempo di degradazione molto baixa permette una longevità di copertura maio quindi quello che parlava è l'impresario che ha realizzato i lavori che spiegava come questo sia un sistema completo e del perché del prodotto quindi del fatto che abbiano scelto una soluzione più durevole di base è una chapa 0,7 mm con un profil di 48 mm di altura un isolamento termico in PIR che è il termozone e una membrana in TPO di 1,5 mm un sistema di fixazione di parafuso e manga conica il Everguard White ha una riflessione solar molto maio che permette che a cobertura in termo termico e il edifizio in termo termico fico molto più efficient è un sistema completo da BMI a chapa non è da BMI ma è con la approvazione da BMI il sistema di fixazione il calcolo è fatto dalla BMI è approvato dalla BMI il isolamento termico è da BMI e la membrana è da BMI portanto è un sistema integrale della BMI è una maio valia è una maio valia molto grande ecco bene i pannelli qualcuno ci chiede che stanno posando sono pannelli isolanti fondamentalmente sì 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 sono pannelli in poliuretano a celle chiuse peer che fanno parte del sistema completo di BMI allora io devo tornare alla presentazione delle slide adesso riprendiamo un pochino dunque abbiamo visto un po' tutte le fasi di posa fondamentalmente anche con sì di un ciclo completo un ciclo completo e niente si rivede la presentazione sì sì benissimo e niente no lo riprendo brevemente questo ciclo perché questo questo esempio di copertura che avete visto dei colleghi in Portogallo in realtà è applicato in tutta Europa è il sistema CoolRoof BMI ed è il sistema che è applicato in Italia in Francia in Germania in Spagna tantissimo e comprende quindi una membrana Levergar TPO una membrana in poliolefina termoplastica che è una membrana riflettente appunto il suo ci chiedono conferma sono poliolefine giusto? sì questa è una poliolefina sì 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 poliolefina termoplastica TPO non è l'unica possibilità possono essere realizzate con altri manti sintetici quello che bisogna guardare è quella è quella performance di SRI che per cui si possa definire poi che un tetto funziona come CoolRoof con Everguard siamo ad un SRI di 94 lo stato iniziale e di 83 dopo invecchiamento a tre anni però il sistema deve funzionare bene tutti insieme insomma in fin dei conti il padrone di casa vuole che tutto il tetto funzioni bene quindi si guarda all'isolamento termico che sta sotto che chiaramente sarà protetto termicamente anche dalla membrana quindi meno sollecitato quindi lavora meglio il Thermazon i BMI Thermazon sono pannelli in poliuretana a celle chiuse quindi PR 0,021 di lambda watt su metro kelvin e però tutto deve essere assemblato in maniera in maniera che sia sotto controllo questo dà una grande vantaggio una grande garanzia una grande sicurezza a chi poi è il padrone di casa ma non è specialista e quindi con un sistema di fissaggio anche questo valutato approvato testato in combinazione con questi elementi non semplicemente da solo che è il sistema di fissaggio BMI DrillTech allora Ferdinando dimmi io posso andare avanti sì allora ci sono tutta una serie di domande sulle questioni che abbiamo visto ma forse nelle tue slide forse riusciamo già da risposta sulla posa sui pannelli allora provo un attimo ad entrarmi qua sulla su questo sistema magari a qualche domanda risponda automaticamente sì vediamo allora membrana membrana Evergar TPO è uno dei punti di forza di questa membrana è una grande facilità di saldatura è una membrana sintetica quindi il sistema di posa prevede l'utilizzo delle apparecchiature tipiche delle membranze sintetici quindi il saldatore d'aria calda questi robot queste macchine che producono esatto questa è una delle domande proprio su come avviene la saldatura la saldatura avviene ad aria calda quindi servono servono degli strumenti in grado di soffiare aria calda sono praticamente le apparecchiature che funzionano con energia elettrica e che e che e che producono calore con un flusso con un flusso di calore no quindi c'è un beccuccio e il macchinario sia manuale che automatico permette queste saldature è importante a proposito di saldatura qualcuno ci chiede viene saldata solo la membrana dove c'è la congiunzione praticamente una sovrapposizione della membrana o viene fatta aderire anche sul pannello isolante no normalmente la membrana è fissata meccanicamente quindi di fatto c'è un fissaggio meccanico dei pannelli isolanti e poi c'è il fissaggio meccanico della membrana quindi le saldature riguardano solo i punti di congiunzione della membrana di tutti i teli delle zone circostanti di tutti i perimetri degli angoli eccetera eccetera la cosa qui lo dico velocemente è che però insomma da tenere presente è appunto la durabilità e in questo senso non ci sono particolari performance tecniche scritte in schede tecniche o in altre cose però bisogna vedere un pochino l'offerta generale e chiedere garanzie garanzie da questo punto di vista a chi offre la soluzione proprio perché queste coperture dovranno resistere a sollecitazioni climatiche ambientali che sono importanti una richiesta ancora sulla saldatura le macchine per la saldatura è necessario cioè che chi mette in opera queste membrane le acquisti sono disponibili a noleggio ma la posa di questi imanti sintetici è fatta da specialisti non ci si improvvisa è fatta da specialisti perché appunto la tecnica di saldatura è importante i macchinari questi specialisti li li hanno principalmente devono averli qualcosa si può prendere a noleggio ma non è quella la soluzione principale uno può prendere a noleggio se deve fare un pezzettino un po' fai da te o qualcosina in più però i tempi e la cantieristica sono nella realtà sono così rapidi i lavori bisogna iniziarli e finirli in un certo tempo rispettare le consegne che è difficile poi gestire tutto questo se qualcuno noleggia chi noleggia non ha un parco infinito di materiali poi bisogna aspettare la disponibilità delle attrezzature e poi si è interrotti per il cattivo tempo quindi gli specialisti sono attrezzati certo la sovrapposizione fra i teli di quanti centimetri è all'incirca? questo un po' dipende dai sistemi però voi potete immaginare una sovrapposizione da 7-8 centimetri nelle zone in cui non ci sono i punti di fissaggio ad una sovrapposizione invece di 12 centimetri dove invece ci sono i fissaggi che devono essere nascosti ok vado un pochino avanti sì insomma mi soffermo solo un secondo visto che mi fate domande sulle saldature poi magari non so se potrò riprendere nel prossimo corso parlerò di differenze tra tipi di manti sintetici e quindi posso riprenderla questa parte qui qua si vedono tutti questi fili che sono i cavi elettrici e qua si vedono insomma l'operatore che ha un suo robot con cui salda e questi cavi elettrici che quindi sono collegati a questa parte comunque magari lo riprenderò questo nel prossimo webinar il prossimo mercoledì si è un sistema però è completato assolutamente degli accessori non si può realizzare la continuità a questo punto della funzione principale della membrana la funzione principale è comunque quella di garantire l'impermeabilità il nostro cappello sulla copertura e quindi bisogna valutare bisogna avere gli accessori per questo sempre di più questo è un lavoro specialistico quindi gli angoli i punti di evocazione pluviale gli areatori gli elementi passanti ognuno di questi elementi ha degli accessori adatti perché perché così questi manti che sono prefabbricati possono unirsi correttamente e sigillarsi in tutti i dettagli lo dicevamo però anche prima la il manto è libero quindi è fissato meccanicamente fissaggi meccanici drill tech per BMI fissaggi meccanici sono importanti perché vincolano tutto questo alla alla struttura i fissaggi meccanici sono i fissaggi meccanici di diverso ci sono diversi fissaggi meccanici noi dobbiamo fissare la membrana e l'isolante ci sono delle norme e dei calcoli da rispettare in generale un po' nel dettaglio il fissaggio meccanico della membrana può essere un fissaggio meccanico diciamo che si dice in linea vedete i fissaggi meccanici si vedono tutti i punti di fissaggio sono tutti allineati nelle zone in cui si sovrappongono i teli lateralmente quindi il telo viene bloccato il fissaggio meccanico attraversa l'isolante e va a forare il supporto che è una lamiera grecata che è un supporto in legno che è la nostra letta in cemento per le membrane sintetiche però c'è anche un altro sistema di fissaggio che è un fissaggio meccanico per induzione questo sistema di fissaggio è interessante permette una riduzione del numero di fissaggi e una velocità di posa maggiore e praticamente con questo fissaggio noi fissiamo contemporaneamente l'isolante e la membrana non mi addentro adesso su come funziona il sistema di fissaggio meccanico per induzione lo riprenderò nella prossima webinar però questo per dirvi che ci sono appunto due tipi di fissaggi per quanto riguarda le membrane ho solo ingrandito la slide sì sono tornato isolante isolante e quindi il nostro termazon come isolante l'isolante va fissato meccanicamente una piccola nota rispetto a questo l'isolante è l'isolante è e deve essere chiedo scusa perché ho visto segnale di scarica del computer deve essere fissato con la norma 11442 norma di riferimento in Italia questa norma chiede il fissaggio meccanico che si è fatto in un certo modo dei pannelli isolanti e chiede un fissaggio meccanico dei pannelli isolanti per i tecnici questa nota anche per coperture sotto zavorra ghiaia giardini pensili i pannelli sono fissati meccanicamente magari approfondisco anche questo tema nel prossimo webinar il sistema deve essere completato anche dai calcoli per contribuire il controllo delle trasmissioni di vapore e della condensa interstiziale e quindi se necessario si utilizza una barriera a vapore l'SD di questa valore cioè la sua performance rispetto a quanto vapore blocca va da 100 a 1500 metri dipende la scelta quindi del materiale della sua performance dipende da questi calcoli però anche questo deve essere preso in considerazione nella progettazione del pacchetto la progettazione del pacchetto è comunque ha una sua complessità deve essere affrontata correttamente da ultimo insomma un accenno veloce c'è le certificazioni le certificazioni in questo caso term del sistema Everguard l'Energy Star e il factory mutual le sono ereditate le portiamo dalla dagli Stati Uniti quindi sono performance in più però a livello europeo beh la marcatura C e il suo ETA che sono obbligatori assolutamente ma c'è una certificazione importante che è la EPD Environmental Product Declaration e che racconta a proposito di quella sostenibilità ambientale che dicevamo prima insomma richiesta a livello europeo c'era l'esempio di Berlino ma non solo racconta l'EPD di un materiale o di un sistema come qual è il suo ciclo di vita e qual è il suo impatto ambientale eh l'environmental punto ambientale eh dichiarazione del del product declaration quindi una una dichiarazione ambientale del prodotto quanta energia muove eh per produrla per smaltirlo durante il suo ciclo di vita quindi queste queste certificazioni saranno sempre 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 più importanti e dovremo prenderle in considerazione se vogliamo considerare nelle scelte dei materiali che che utilizziamo per le costruzioni quel discorso di sostenibilità non solo e in combinato alla durabilità sostenibilità poi significa in realtà cosa cioè dipende no un materiale sostenibile quando il tutto il suo ciclo energetico è sostenibile concludo velocemente perché poi abbiamo moltissime domande ma due parole veloci sui servizi BMI ecco noi tutto questo che io sto facendo qui attraverso questo webinar lo facciamo alla BMI Academy corsi di teoria in aula corsi pratici in laboratorio per una formazione completa dei professionisti e sotto il motto che è il nostro motto del sapere per fare e fare per sapere quindi le due cose si combinano ma scusate BMI Expert è un altro nostro servizio importante ed è un servizio di consulenza alla tecnica consulenza tecnica per la progettazione io la faccio per le coperture piane quindi anche per i corrufs e questo è un servizio di consulenza che è rivolto in maniera gratuita come collaborazione con i progettisti con le imprese e con i posatori quindi è rivolto a tutti gli attori del nostro mercato e con questo io ho finito la mia presentazione benissimo fra l'altro visto che hai messo le slide in cui c'è il vostro servizio anche di consulenza forse visto che non riusciremo dato che siete moltissimi anche oggi questa mattina e le domande sono molte e alcune sono anche molto puntuali quindi forse meritano un approfondimento diciamo con un po' più di tempo quindi probabilmente forse possiamo dire che sarete a disposizione eventualmente anche finito il webinar per eventuali questioni o approfondimenti tecnici e quant'altro non riusciamo a dare risposta oggi e credo che possano indirizzarsi al sito di BMI Group assolutamente dove trovare i vari contatti per tutto quello che oggi diciamo non riusciamo ad approfondire allora però ti pongo subito una serie di questioni e di approfondimento allora innanzitutto possiamo dare un'indicazione sulla durabilità di questo tipo di prodotti ma questo è sì questo bisogna valutarlo un po' in generale diciamo che da questo punto di vista non è che si mettono dei numeri di fianco ad ogni materiale però in un sistema Daniele non so se ti sento non ti sento non riesco a sentirti forse c'è qualche problema nel tuo collegamento allora attendiamo forse c'è stata un'interruzione nel collegamento con Daniele Piccardi vediamo se c'è qualche possibilità di riprendere il collegamento attendiamo ancora un attimo vediamo se Daniele è in grado di ricollegarsi nel frattempo ricordo che eventualmente come dicevo prima per l'eventuali dubbi o altro sia Daniele sia i suoi colleghi tecnici mi avrebbero detto prima che erano a disposizione per approfondire anche le domande di oggi a cui non riuscivamo a dare risposta ma anche eventuali ovviamente altre questioni che dovessero emergere e ci fosse necessità di risposte su questo poi Daniele ci senti? abbiamo un problema ancora di audio non ti sentiamo e a chi ce lo chiede fra l'altro ricordo che forse ti sentiamo adesso ok ti senti? si si ok ci sono sei mancato o è sparita la tua connessione si è stato un blackout si scusatemi scusatemi esatto tecnologie ricordo a tutti che allora riceverete il link con le slide e probabilmente cercheremo di rendere disponibile anche la registrazione sul nostro canale edicom news youtube edicom news cercate il canale proprio edicom news youtube dove potrete rivedere tra un po' anche la registrazione del webinar di oggi così come di altri che sono stati effettuati e quelli che effettueremo allora sì c'era quella domanda a cui stavo cercando di rispondere penso che qualcuno sia in attesa però in maniera generale sì in maniera generale questo si lega alle garanzie cioè bisogna bisogna pesare i materiali le garanzie sono un punto di discussione importante garanzie sia sul sul sistema completo bisogna prendere un po' tutto il sistema completo sia sulla sull'esecuzione dei lavori e poi diciamo su come questi lavori si è in grado di seguirli nel tempo quindi il piano di minimizzazione di controllo questo rende queste coperture durevoli bisogna qualcuno forse si era preoccupato vedendo tu hai dato delle indicazioni ad esempio su quelle che erano leader o normative anche americane o altre in cui si faceva riferimento a dei valori dopo tre anni qualcuno ci chiede ma la durabilità di un edificio è molto più lunga di tre anni ma no bisogna sì lo so però bisogna un po' separare questo esercizio normativa la indicazione no bisogna sempre tenere a mente tenere a mente che appunto il laboratorio cerca di aiutarci a leggere la realtà di quello che poi succede però è un laboratorio e non si può chiedere al laboratorio di diventare la realtà quella quella la fa una copertura e gli anni che passano però ecco almeno in laboratorio è possibile fare qualcosa di sensato ed avere dei punti di riferimento quindi anche qui bisogna essere pratici perché non si può chiedere ad una membrana di fare un test di dieci anni e poi dire come si comporta a dieci anni perché oltre a che facciamo finiamo il test a dieci anni abbiamo ci possiamo fare dei test accelerati possiamo fare dei test che simulano il comportamento nel tempo ed è quello che si fa però di nuovo siamo in un campo di simulazione quindi in maniera pratica è corretto e si vede poi ci sono stati degli studi con delle correlazioni è corretto questa indicazione soprattutto negli Stati Uniti lo stato iniziale è un invecchiamento a tre anni ma l'invecchiamento è fatto con un metodo di test che provoca termossidazione quindi calore raggio V che spinge e che spinge la membrana a degradarsi in maniera forte e quando il valore di risposta della membrana rispetto a questo test è un valore ancora sufficiente si vede si chiedeva un livello di performance al di sopra di TOT per esempio per l'SRI questo significa che si è visto che quella membrana poi si comporta bene e continua a comportarsi in maniera accettabile per gli anni che seguono e questo bisogna combinarlo con le garanzie che offre l'azienda se l'azienda rispetta a questo poi dopo dice che su questo comportamento per TOT anni quindi 20 15 20 25 30 si sente sicura e vi dà e dà delle diciamo dei documenti scritti che dicono questo ecco combinato questi dati tecnici con questi impegni allora uno può fare può fare le sue scelte quindi sulla bisogna e poi bisogna fare esperienza cioè bisogna vedere realmente le scelte che si sono fatte negli anni come si stanno comportando bisogna tornare a guardare i tetti bisogna guardarli bisogna guardarli nel tempo tenerli monitorati e vedere chi come si come si come si comportano se effettivamente c'è una qualità accettabile che continua oppure no e di questo chiederne conto abbiamo visto esempi che hai mostrato con superficie anche piuttosto grandi la maggior parte degli interventi che voi fate li fate su tipologie specifiche di coperture nel senso edifici residentiali commerciali o industriali o anche le dimensioni diciamo brevemente sì sì certo allora i Currufs per quanto riguarda le coperture riflettenti è chiaro che diciamo l'applicazione principale è in ambito non residenziale anche se qualche ambito residenziale in sud Italia si fa però la sua applicazione più importante sono in quelle aree industriali in cui abbiamo non so grandi superfici centri logistici piattaforme logistiche insomma capannoni industriali artigianali in tutte le nostre zone industriali delle città allora lì su quelle superfici la questa questa soluzione ha più senso perché è comunque una copertura tecnica che significa una copertura che è accessibile per che sopra ci sono degli impianti magari abbiamo montato sopra questa copertura ci sono impianti dell'aria condizionata gli impianti di ventilazione degli impianti industriali ci sono magari i pannelli fotovoltaici quindi è una copertura tecnica e ha senso quando un edificio è un po' un edificio di questo tipo quindi questa è la sua principale applicazione è un'altra domanda che è un dubbio che ci pongono i tetti quindi i cool roof che hanno questa ovviamente anche capacità di riflettere entrano in conflitto o nuociono hanno delle problematiche come nel caso se sulla copertura siano installati o debbano essere installati impianti fotovoltaici no no si sposano benissimo perché le celle fotovoltaiche ricevono energia diretta è anche riflessa quindi anzi meglio meglio ancora quindi no no si sposano perfettamente queste tecnologie benissimo nel caso probabilmente la domanda è riferita credo all'esempio in Portogallo in cui si vedeva una copertura presumo anche di alcuni edifici forse era un piattaforma logistica in Portogallo esatto si vedeva se qualcuno ci chiede ad esempio si vedeva un isolante fissato a della lamiera in questo caso come viene fissata ma questa dipende dalla struttura dell'edificio ecco un edificio può avere una struttura della copertura che è come nel caso di piattaforme logistiche si vede tantissimo in Europa ma anche in Italia sempre di più può essere una metal deck cioè una lamiera in acciaio autoportante che prevalentemente ha questo profilo come una greca quindi con delle onde e niente ce ne sono di tantissimi tipi sono testati eccetera eccetera e quello diventa un supporto molto leggero molto facile da installare quella è una scelta di soluzione progettuale un materiale che fa da supporto però noi in Italia o comunque in generale non solo in Italia abbiamo tantissimi capannoni industriali che hanno invece una struttura prefabbricata in cemento con i tegoli AT WT tegoli alari in Italia le strutture prefabbricate in cemento sono molto 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 diffuse il sistema non cambia il sistema deve essere fissato meccanicamente ok e nel caso la superficie della copertura sia irregolare nel senso abbia una geometria un po' non perfettamente rettangolare ma abbia delle rientranze o altro e quindi sia necessario intervenire si taglia la membrana in opera come si opera come si si no non succede nulla insomma dal punto di vista allora dal punto di vista del perimetro della copertura ci può essere qualunque geometria perché quando si arriva in quelle zone semplicemente si taglia come giustamente dicevi te e si fissa nelle zone perimetrali e basta e poi si fanno le sigillature dei risvolti verticali eccetera eccetera quindi la forma del perimetro non è un problema queste membrane possono appunto essere tagliate e quindi è come fare un vestito è come realizzare un vestito sopra la copertura si si adattano a tutte se le superfici invece che planare sono superfici una cupola superfici con geometrie particolari anche in quel caso perché basta adottare i sistemi di esecuzione corretti ma la membrana può essere posata e fissata meccanicamente ci sono delle cupole realizzate con banti sintetici ci sono delle superfici ad onda ci sono tanti esempi non so ci sono delle coperture di stadi che hanno una geometria curva circolare ovale e sono realizzate con manti sintetici possiamo intervenire anche su membrane impermeabilizzanti esistenti nel senso posare un cool roof ma la questione che ci pongono è se in questi casi a volte ovviamente per tetti che hanno già una certa età ci sono magari dei rigonfiamenti piccoli distacchi bisogna studiare il caso ogni volta cioè bisogna mettere i piedi sulla copertura verificare con dei carottaggi l'esistente capire magari in più punti capire come quanta umidità oppure addirittura quanta acqua se l'isolante è molto imbevuto decidere volta per volta se l'isolante lo si può tenere completamente se è meglio rimuoverlo in alcune zone perché è veramente troppo malmesso oltretutto non funzionerebbe più Daniele ti abbiamo perso nuovamente non sento più la tua voce abbiamo comunque raggiunto il tempo che più o meno ci avevamo dati forse non riusciremo anzi sicuramente non riusciamo a dare risposta tutte le questioni che avete posto oggi per cui vi invito a visitare il sito di BMI il sito internet in cui potete trovare i miei risperimenti anche dei tecnici anche di Daniele da contattare e direi possiamo darci appuntamento al prossimo mercoledì sempre alle ore 11 in cui affronteremo sempre il tema delle coperture piane in questo caso vedremo l'applicazione di imbanti sintetici e direi che a questo punto chiudo il collegamento di oggi ringrazio Daniele Piccardi per essere stato con noi e do appuntamento al prossimo mercoledì grazie a tutti e buona giornata grazie a tutti